Coraggio, verità, speranza, felicità. Che bello itinerario stiamo facendo, ma con un condimento di umiltà, di sottomissione all'altro, ma la sottomissione evangelica che è una sottomissione costruttiva, è una sottomissione che rispetta la tua dignità ma anche la dignità dell'altro. Una profezia della felicità, ecco che bella questa parola, una profezia del coraggio, una profezia della speranza, una profezia della verità che va fatta sempre all'interno della compagnia degli uomini. Ieri, rileggendo quella stupenda Catechesi sulla speranza di Papa Francesco, abbiamo ascoltato come egli abbia detto che anche se ci riscopriamo gli unici, i soli, a credere nella verità, ad avere il coraggio della verità, non dobbiamo mai rifuggire, mai abbandonare, mai allontanarci dalla compagnia degli uomini. E poi Francesco ci ha detto qualcosa di ancora più profondo, qualcosa che spesso noi non riusciamo a pensare come strada, come via per farci vivere all'interno della compagnia degli uomini, la profezia della verità, del coraggio, della libertà, della speranza e quindi della felicità. Ma riascoltiamo solo queste piccole parole, anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo, porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura. Sei cristiano e nella preghiera tutto riconsegna a Dio. Vedete, la preghiera è veramente, come diceva Padre Pio, la forza che cambia il mondo. La preghiera è l'anima di un mondo totalmente sottomesso a Dio. Sottomesso, lo ripeto, non vuol dire perdere o delegare, no, vuol dire guadagnare, perché con Dio più ti, tra virgolette, più perdi, più guadagni. Con Dio più perdi, più guadagni. Quindi il coraggio della preghiera che mi apre il cuore e che mi fa portare le sofferenze di tutto il mondo, di tutto, di tutto il mondo, di tutto il pianeta nel mio cuore e che io poi posso presentarle al Signore. Questa è vera verità, coraggio, speranza e felicità. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!